Avvieremo la vaccinazione del personale della scuola, inizieremo il primo marzo, e il personale delle forze di polizia, armate, protezione civile, magistrature, prefetture e questure, il 2 con i vaccini AstraZeneca. Prosegue il piano vaccinazioni nelle Marche. Dopo gli over 80 si continuerà con le categorie elencate oggi da Filippo Saltamartini, Assessore alla Sanità nel corso del Consiglio regionale. Per il personale del comparto dei servizi fondamentali, ha spiegato Saltamartini, è prevista la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Verrà utilizzato per le persone fino a 55 anni, mentre agli over 55 verrà iniettato il vaccino Pfizer. Finora questo processo di vaccinazione ha riguardato il 90% delle persone che sono in RSA. Abbiamo messo in programma il completamento della vaccinazione in questa settimana. Completeremo sempre in questa settimana tutto il personale della sanità, tenendo conto che i vaccini sono arrivati stamane 12.800 Pfizer. Fissata per il 20 febbraio, invece, la partenza delle somministrazioni del vaccino Pfizer agli oltre 133.000 ultraottantenni marchigiani, che hanno la possibilità di recarsi o di essere accompagnati ai punti di vaccinazione scelti. Le prenotazioni online e per telefono partite lo scorso 12 febbraio stanno andando molto bene. Sono giunte a circa 62.000. Se tutti si prenoteranno, completeremo la vaccinazione degli over 80 in 21 giorni, ha spiegato Saltamartini. Dopo gli ultraottantenni, in grado di deambulare, sarà poi creata una piattaforma assieme a poste italiane ed un numero di telefono, dove potranno registrarsi anche gli over 80 allettati, invalidi o che non deambulano e che quindi dovranno essere vaccinati a domicilio. Il piano vaccinale, ha poi continuato Saltamartini, proseguirà con la somministrazione del vaccino alle categorie più fragili, con patologie. Domani ci sarà il tavolo con i medici di famiglia per rinnovare l'accordo, che era stato avviato a livello nazionale, poi interrotto per la crisi dell'esecutivo Conte. Domani contiamo di chiudere l'accordo in modo tale che anche i medici di famiglia possano aiutarci nella vaccinazione domiciliare delle persone che non possono accedere ai punti di vaccinazione e anche per quanto riguarda un aiuto dei medici di famiglia potrà essere utile negli stessi punti di vaccinazione. Tutta la struttura dei distretti, i medici USCA e anche le ADI, l'assistenza domiciliare integrata, contribuirà a completare il quadro delle vaccinazioni che riguardano queste persone che se dovesse essere colpite da Covid-19 rischierebbero molto. Quindi invito tutti i figli, i nipoti, gli amici ad accompagnare nei punti di vaccinazione queste persone. È un gesto di grande solidarietà, un bellissimo regalo accompagnare queste persone che rischiano appunto per la somministrazione di questo vaccino. Grazie.